Questa è un altro, mi accendono le luci, mi accendo le luci, mi accendo le luci, è già domani, ho quasi. Auguri! Dieci anni! Grazie a me la ricca di Sanova! foto di rito ma è tutto te eros ok aiuto queste sono le porzioni del nostro eros allora tra poco la torta del raso al vita aiuto mi sta partendo la fetta te lo dico grazie allora fra poco potrà servire la torta ragazzi